Ok, spero che sia la volta buona ragazzi perché sennò c'è io strippo, sappiatelo. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Finalmente, dopo ormai la quinta volta che registro questa parte di video, riesco a portarmi una serie, non ci riesco a credere. Ratchet & Clank, diciamo che è un remake di quello che è uscito per il 2002, non diciamo è un remake di quello che è uscito per il 2002, ma fa lo stesso. Vabbè, vi porterò questa serie fino in fondo e cercherò di impegnarmi di fare uscire i video regolarmente. C'è un unico problema, la NBC Universal ha deciso che i filmati di intermezzo, tra un gameplay e l'altro, non si possono pubblicare su YouTube. E avendo già registrato già gran parte dei video e non potendoli caricare perché me li ha bloccati la visione, non potevate vederli, cioè nessuno poteva vederli. Voi non potete immaginare il nervoso. Quindi sentirete solo l'audio, molto probabilmente. Vedrò se mettere qualche immagine in mezzo o non lo so. Molto probabilmente sentirete solo l'audio, quindi io direi di partire. E come prima cosa tirerò via la musica perché sapete benissimo che... Mi censurano il video. Partita normale, sì! Sìììììììì! Voi non potrete vederlo, vi metterò uno screenshot, ma... Cioè, è fotonico, capite? Si sta rilassando con i cetriolini sopra gli occhi, oh mio dea! Ed è in una prigione. Sì, novellino, sono... Il capitano Quark? Io... non ci credo! Sei tu! Ho sempre sognato di essere arrestato da te! Su, togliti di mezzo. Stavo parlando con te, Zed. Sì, capitano. Allora, novellino, a quanto pare conosci tutte le mie avventure. Certo che sì! Sei il più famoso supereroe della galassia! Ormai non è più famoso! Ha ha ha! Le parole fanno male, Stolingo Bill. Sono un tuo grande fan! Ho già prenotato il nuovo ologioco di Ratchet & Clank! Il cosa? Hai presente? Il gioco basato sulla tua disavventura con il Lopax! Ah, vuoi dire l'Holofilm? Sì, non è male... Per chi ama gli effetti speciali. No, intendo il gioco! È tratto dall'Holofilm! E io ho quillinelli di conferma! Mi arriva in prigione via posta magnetica! Fanno il gioco di un Oloofilm basato sulla mia vita? Nessuno mi ha consultato! Oh, è colpa mia! Sono rimasto lontano dalle scene in questo buco dimenticato troppo a lungo! E ora... Nessuno conoscerà la mia versione! Io la sentirei volentieri, capitano! Davvero? Beh, allora accomodati, criminale diffidente! Ti racconterò una storia! Tutto ebbe inizio con uno sventurato Lombax di nome Ratchet! Dove credi di andare? Ehi, Grim! Sei qui! Credevo di trovarti all'Emporio a prendere bobine gravitazionali! Ahah! Beh, sono qui! Sono sempre qui! Non credo che la tua fuga abbia a che vedere con quei provini per i Ranger Galattici, no? Mi serve solo un'ora! Andiamo, Grim! Qui stiamo parlando dei Ranger Galattici! Ci sarà anche il Capitano Quark! Non te ne andrai finché la nave del signor Micron non sarà a posto! Sotto con quell'armese! Ok! Se è una nave a sollevamento magnetico, occupati di quella valle! Sì, un attimo! Devo parlare con i miei iscritti, con le persone che seguiranno la mia serie! Quindi calmati! Bene, siamo entrati nel gioco! Cioè, guardatelo! È fotonico! Ho dovuto tirare via la musica perché, come sapete, è censurata! Ok, ok! Per una volta diamogli retta! Cioè, comunque... Guardatelo! Il pelo! La messa a fuoco automatica! Ed... Ok! Ve l'ho già detto nella recensione! Mi vorrei di andare avanti! Tiriamo! La la la! La la la! Ok! Vediamo se le nuove versa lampadine funzionano! Eh, certo! Sono un meccanico! Certo che lampeggia! Aha, aha! È un miracolo! Ok, ora le luci dei post bruciatore... Luce post bruciatore sinistra, ok! Io, fratello! Questo affare potrebbe essere pronto per lo spazio, dopo tutto! Un altro a destra! Luce post bruciatore destra, ok! Aha! Funziona pure quello? Se ci siamo! I notiziari dicono che le prove si terranno al Luna Park! Fagli vedere chi sei, ragazzo! Bravissimo! Fammi uscire! Sì! Sì! Intanto prendiamo, come sapete bene, i bulloni che ci serviranno per potenziare le armi, per comprare armi, anzi no, per potenziare le armi ci vogliono delle pietre. Scherzavo! Come sapete, il Ratchet & Clank, se non si hanno abbastanza bulloni, non si può andare avanti. E quindi girerò un po', ma anche soltanto per farvi vedere queste meraviglie! Cioè, guardate che meraviglie! Uh, cassa! Uh, cassa! Tutto a me, tutto, tutto, datemi tutto, 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 tutto! Uh! Vediamo un po'! Quadrato! Avanti! Fatti sotto! Ah, la Dark Souls! Per rimanere in te... No, non è vero! Come vedete, i bulloni si attravano quando mi avvicino a loro! Ah! Sì, ecco! Oh, li impari! Pronto! Ah, ah! Nessuno può batterelli! Ok, basta, se no vi faccio venire il vomito! Vediamo un po' se si può fare! Oh! Pulloni gratis! Quello è un nanotech appunto, quello luminoso! Ma che cavolo! Mettiamoci a posto, d'accordo! Ecco! Questo qui è un nanotech, però, essendo che ho l'energia al massimo, non me lo dà! Eh, perché sono brava, so furba, io non mi faccio corpire! No, non è vero! Salve Rana! Cioè, ma le esplosioni, ragazzi! La fisica di questo gioco! Guardate! Ok! Guardatelo, distrugge casse insolente! Ah, sono insolente solo perché... Queste era una nuova arma con cui proteggere la casca! Esatto! Vedo che... Qualcuno ha capito come funziona! No! Le! Gimpari! Ma... Vabbè! C'è qualcosa che mi puzza! Vabbè! Guardate, ragazzi, il paesaggio! I dettagli! Cioè, il confronto con quello della Play 2! È tutt'altra cosa! Ragazzi, ci entrate nel percorso di addestramento e mettetevi alla prova! Vedo un altro... Ovviamente, i tasti rispetto a quelli dalla Play 2 non sono cambiati! Quindi... Oh, l'ha fatto! Ha! Ha! Oh, yeah! Oh, yeah! Certo, certo, certo! Oh, ho rischiato di cadere! Perfetto! Potresti essere il Ranger Galattico che cerchiamo! Procedi alla fase successiva del percorso! Via, via, via! Io sono Brax Rectrus! E la mia specialità è la forza brutta! Vediamo se riesci a sfasciare queste casse! Ah! Vada mia mia! Eh! Dobbiamo prenderli in mezzo? Sì! Dai, dai, dai! Ecco! Qui... Attiva il rivenditore Gadgetron! Da lui potremmo potenziare le armi, acquistare le armi! Come potete vedere, costo 100 bulloni! Abbiamo le nostre granate! Sì, sì, aspetta, mi rinfornisco Ah, no, ok L2 Ok, R2 Vabbè Un attimo No? Munizioni gratis, comunque Facciamo così Ah! La galassia di Solana era un luogo pericoloso Come dimostravano le numerose casse Ah! Ah! Prossimo Raccogliamo i bulloni C'è l'automira, comunque C'è la mira automatica, quindi Un pochino siamo avvantaggiati Cioè, guardate! Il riflesso della lava sul nostro recetto R2 Uhuh! Cucu! Eh, eh Tu cosa fai? Direi che posso aspettare a sfondare qua Haha Andiamo un po' Uhuh! Wow! Una holoscheda grande! Esatto Queste sono le holoschede Praticamente sono delle carte Esatto Con che convinzione Direi che l'ha spiegata abbastanza bene Apriamo il nostro pacchetto Spacchettamenti Che bello Alto piano Abbiamo un rimbalzo Che prima o poi devo avere E vabbè la nostra holoscheda Giustamente Torniamo in gioco Ecco, sennò non finisce più sto video E streggiamo tutto Cioè, diciamo che Eh, le casse sono come Per Zelda i vasi Cioè, come per Link Scusate Mi confondo sempre Ok, facciamo che ti... Aumentare la domicina Abbiamo dato ai manichini Un lanciapiamme Gadgetron I nostri legali Dicono che è legito Guardate Guardate Che dettagli Che cosa bella Ok Puoi farcela Guardatemi un po' di... Ah Avevo perso una vita qua Non me ne sono incontro Se sopravviverai a questa terribile ondata di nemici Potresti essere assunta come Ranger Galattica Verrò assunta come Ranger Non ti preoccupare Forza Che brutta mira Uno? Ne sono andati via due Ma non dirlo a nessuno No ma Vabbè A parte quello Ci sono i livelli In cosa consiste? Aumenta l'energia massima Quindi da 10 sono passata a 20 E quindi questa è una cosa carina Aggiuntiva Che hanno messo Ovvio Facciamo Facciamo che ti faccio saltare in aria Niente Mi diverto troppo ragazzi Cioè Ma vi rendete conto? Anche le esclusioni erano una figata Ok Prendiamo prima tutto Non è andata così male È andata da Dio Prendiamo tutto Prendiamo tutto Andiamo Corri Voi non lo vedete Ma c'ha la schiena che gli va fuoco Intanto Voglio essere messo con voi gente Quando il presidente Pyronix Mi ha chiesto di reclutare un nuovo Ranger Sapevo dove cercarlo Esatto Noi vogliamo voi Sì So cosa pensate Sarò in grado di farcela? Dopotutto Non avete impedito voi Al dottor Nefarius Di polverizzare a Lero City Tantomeno avete impedito A Nafting Prog Di rendere l'intera popolazione Di aridia daltonica Due volte E di certo Non avete la mascella squadrata O i pettorali scolpiti Nel marmo Ma se avete entusiasmo Allora potete farcela Yeah Tu non potrai farcela Eh? Ho entusiasmo Sì ma per sfortuna Il tuo entusiasmo In una gracile Placida massa Di inesperienza E bisogna considerare I tuoi trascorsi Trascorsi Possesso illegale Di un repulsore Di gravità Uh huh Un acceleratore Non omologato Uh huh Il continuo Ma no Una storia pazzesca Fai solo Un cane sciolto E sei pericoloso E per questo Basto io Aspetta Dammi la scuola Scusa è tardi La galassia è in pericolo Avanti Tornala fuori E ricorda Nulla è impossibile Se sei me Prossima Intanto sul pianeta quarto Il dottor Lefor Non ho parole E che ha creato Tutto questo Folle implica Un difetto cognitivo Mi definirei Uno scienziato Vendicativo Immagino Vorrei vedere Le tru Oh certo Boh Ok Ok Ciao Ciao Rilevata anomalia Avvio della distruzione immediata Tra tre Due Un robo di fatto Un robo di fatto Ho come la strana sensazione Che so Dove stiamo andando Cosa stiamo per fare Però ragazzi Ormai siamo già 16 minuti E passa di video Quindi direi Di interrompere qui Ci vediamo Nel prossimo Nella quale Faremo appunto La parte Sembrerebbe Di Clank Nella quale Scappiamo da Victor Sembrerebbe Che bello Quante volte morirò Non lo so Vabbè ragazzi Quindi Ci vediamo In un prossimo video Spero che questa Prima parte Vi sia piaciuta Fatemelo sapere Con un like Un commento Se volete che continui Perché sennò Lascio perdere Davvero Se sono pessima Lasciate perdere E niente Direi E ci vediamo Nella parte 2 Ciao